Allora, ciao a tutti, cominciamo oggi una nuova mini rubrica qui su Lega Nerd, fatta apposta per Facebook e YouTube. Fondamentalmente ci arrivano in redazione tanti pacchi e quindi abbiamo deciso di aprirli insieme a voi quando arrivano. Penso che sia divertente. Sono tutti grandi incauti acquisti, solitamente. Oggi è arrivato un pacco di Amazon, so più o meno cosa c'è dentro, cosa aspettarmi, però lo apro insieme a voi e vediamo insieme il contenuto. Allora, 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 esattamente, c'è il mitico Hub Belking. Thunderbolt Express Dock. Questo è un dock che è stato presentato un anno o forse anche di più, tempo fa. Costava di listino un prezzo folle, 299 euro o 300 euro per un hub, sicuramente è un hub molto figo che ti dà la possibilità di collegare al tuo Mac unicamente, di occupare una sola porta Thunderbolt e di avere in cambio, come vedete qui, una porta Ethernet, una porta Firewall 800, due porte Thunderbolt, quindi fondamentalmente te ne mette a disposizione una in più, visto che una la occupa lui, il jack per le cuffie e il microfono, quindi cuffie e microfono passano attraverso Thunderbolt, 3 port USB 3.0 e chiaramente l'alimentazione dell'hub. Lo apro al volo insieme a voi. Perché l'ho preso? Perché finalmente è sceso a un prezzo umano, è in offerta adesso su Amazon a 119 euro, che è ancora un prezzo abbastanza alto in realtà per un hub di questo tipo, ma diciamo che adesso è diventato comprabile, 300 euro erano veramente folli, invece per me che lo utilizzerò, visto che attacco e stacco il Mac tutti i giorni in ufficio e ho bisogno di collegare un monitor esterno, tastiera esterno, mouse esterno, svariati hard disk esterni, la porta Ethernet, eccetera, potrebbe essere davvero la svolta operativamente. Ecco, intanto è molto più grande di quello che mi aspettassi, lo vediamo qui, non se lo metto da parte un attimo e vediamo che altro c'è. C'è un brick, un alimentatore molto grosso e praticamente nient'altro. Un po' di illustrativo, un foglietto illustrativo e qualche istruzione, che però insomma voglio dire, le istruzioni per un hub lasciano un po' il tempo che trovano, è giusto inserirle, ma a noi non servono. Tiro fuori l'hub qui, un unboxing velocissimo proprio. Svolto da una plastica protettiva, ecco vedete, ha questa cannellina che permette di far passare un cavo da dietro e di far uscire dal davanti. Alla fine è tutto qui, quindi come vedete c'è, tolgo subito la plastichina che non sopporto, è un piacere. Ecco qua l'hub, molto semplice, salto la plastichina da togliere. Quindi, hub, belki, thunderbolt, thunderbolt, 119 euro in offerta su Amazon, se vi serviva, se lo volevate. È un prezzo, non dico onesto, ma sicuramente meglio dei 300 euro che dovevamo sborsare fino a poco tempo fa per avere questo oggettino. Se vi serviva, è il momento di comprarlo. Ciao ragazzi e al prossimo Incaut Unboxing. Ciao.